speciale carrozzeria consigli preziosi per la cura e la salute della tua automobili come far tornare nuovi vetri della sua automobile con poco meno di un euro e un po di acqua fresca a voi il tutorial sono giuseppe nicoletti il titolare della carrozzeria c'è anche scritto dove dove è stato comprato risparmio casa a chi va sono al bene si bagna con dell'acqua normale normalissima quindi solo con acqua paglietta passi in modo uniforme giusto? giusto poi asciughi asciughi bene bene e si controlla qui abbiamo un vetro scuro originale attenzione a questa cosa perché se il vetro è stato oscurato cioè è stata usata la pellicola per renderlo scuro non usate la paglietta all'interno mi raccomando non usate la paglietta sulla pellicola oscurante perché si rovina quindi attenzione vetri scuri non c'è problema ma originali se sono stati oscurati dalla pellicola allora potete usare la paglietta all'esterno ma non all'interno grazie a tutti 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 grazie a tutti